Mitragliatrice! È una delle loro! Un ricoglitore! Visto! Assaltatore nemico! Facciamo attenzione! Assaltatore nemico! Cannoni localizzati! We have taken the sector. We have secured the sector. A flametrooper kit is available near your location. Un ricognitore nemico, laggiù! Vedo un medico nemico! Attenzione! Mitragliatrice! Ehi! Vedo un ricognitore nemico! We have taken the sector. Clear the sector from enemy presence. We have secured the sector. Medico nemico! È là! Medico nemico! È là! Medico nemico! We have taken objective butter. We have taken objective Charlie. We have taken objective Charlie. Medico nemico! Ehi! C'è una mitragliatrice! Ehi! Là c'è un medico nemico! We are losing objective Charlie. Not again! No! Bystander Mechanico! Siamo perdendo l'obiettivo Apples. Siamo perdendo l'obiettivo. Siamo perdendo l'obiettivo Apples. 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 Siamo perdendo l'obiettivo Siamo perdendo l'obiettivo Apples.